Cari smanettoni, oggi è una giornata produttiva. Una delle qualità più utili introdotte nei nuovi iPad è questa, la penna. Personalmente la utilizzo per disegnare o per annotare roba negli spartiti quando studio o quando sono in sala prove. La sua precisione è incredibile e riesce a scrivere molto fluidamente come se fosse nella carta. Tra le app che ti consiglio per scrivere ci sono Note di Apple, che è gente grada e funziona molto bene, ma non ti permette di scrivere su testo o foto. So che, ahimè, quando scrivi e prendi appunti hai bisogno di fare anche questo. Per risolvere questo problema è stato inventato infatti Notability, che ti permette di scrivere sia a mano che con la tastiera. Puoi scrivere sopra le immagini, i testi, disegnare forme libere e non. Puoi trascinare gli elementi con il multitasking, convertire le note scritte a mano. La cosa più importante è che poi tutto sei cloud e quindi te lo ritrovi anche sul MacBook, anche se l'applicazione è a parte. Spero che sia stato produttivo, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e condividete. Ci vediamo alla prossima stagione.